Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a reagire ai tre nuovi trailer della nuova stagione 2 del capitolo 4 di Fortnite. Eh sì ragazzi, perché oggi 10 marzo si inizia con la nuova seconda stagione di questo quarto capitolo. Non vedo l'ora di provarla ragazzi, chiaramente nella giornata di oggi ma anche nei prossimi giorni usciranno una marea di video al riguardo, una marea di contenuti, il pass battaglia, la mappa, le nuove armi, quindi mi raccomando controllate di essere iscritti se non lo siete. Iscrivetevi. Vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGYTTUTTOGRANDE, tutto attaccato al negozio Jet di Fortnite, fondamentale per supportarmi, soprattutto nel caso in cui doveste andare a shoppare il pass battaglia. Vi ricordo che ogni due settimane il codice scala e quindi poi dovete reinserirlo, di conseguenza controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYTTUTTOGRANDE, tutto attaccato. Grazie avvero di cuore a chi lo farà e se ripostate e mi taggate su Instagram mi raccomando controllate di non avere il profilo privato o di mandarmelo semplicemente in chat perché sennò non posso ricondividervi. Lascia un bel mi piace se anche voi come me siete gasatissimi per l'inizio di questa nuova stagione. Ah ragazzi mi sono dimenticato di dirvi che vi aspetto in live su Twitch, starò praticamente in live tutto il giorno, vi lascio il link in descrizione, mi raccomando vi aspetto. E io direi di partire in ordine cronologico per andare a vedere i vari trailer, ci andiamo a vedere prima quello che è uscito ieri, poi ci andiamo a vedere quello che è uscito ieri nella notte, diciamo più che altro oggi alle 4 di mattina e poi quello che è uscito stamattina alle 8. Let's go, andiamo con il primo. La stagione si chiama Mega, qui già possiamo vedere le nuove moto sportive, le skin ragazzi del passe le abbiamo già viste ormai in tutte le salse, questa nuova mega città sembra molto interessante ragazzi, molto 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 interessante. E dopo nei prossimi trailer andremo a vedere anche delle cose ancora più interessanti, ecco anche altre skin, questo robolupo mostro là sopra tocca capire se fa qualcosa e qui ovviamente parte che parte subito l'altro trailer, no non volevo vedere subito, vabbè ok a sto punto andiamo subito agli altri trailer. Dicevo si vedeva Eren, si vedevano altre skin, altre cose, comunque ecco le moto come vi dicevo, moto sportive, finalmente le hanno aggiunte, tra l'altro tra un po' andremo a vedere anche che ci sono le macchine sportive, quindi occhio, occhio. Ovviamente ci sono anche ancora le moto da cross, bellissima ragazzi questa ambientazione con questi alberi, veramente spettacolare, ma guardate un po' che cosa succede, è come se il Punto Zero impazzisse fratture su fratture e le città venissero ricreate ad ogni partita. E questa mega city arriva praticamente dal cielo, guardate un po' quest'isola qui, sembra un po' un'isola OG, ok, dopo ne andiamo a parlare meglio perché dopo si vedrà meglio. Comunque vedete questa mega city arriva dall'alto, più o meno la mappa sembra quella con le zone frastagliate, da quel punto di vista non è cambiata più di tanto, ma ovviamente poi lo andremo a capire quando entreremo direttamente in game. Sti palazzi cascono dal cielo, bisogna capire se cadono prima che noi riusciamo ad atterrare oppure se ci schiacciano moriamo. Vabbè, comunque, altre skin del pass, altre presentazioni, questo qui dovrebbe essere lo del clan di alla deriva, Eren. E questi nuovi, non so come chiamarli ragazzi, questi nuovi laser, non so che funzionano più o meno come le zipline, solo che come vedete sono leggermente diversi. Ovviamente potete sparare anche mentre ci siete sopra. Ed è una roba molto 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 interessante, da capire se sono presenti solo nella mega city oppure comunque li hanno messi sparsi nella mappa. Molto interessanti questi qua ragazzi, eh? Molto 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 molto, perfetto. Comunque, andiamo a vedere perché poi l'altro trailer ci mostra meglio anche le armi. Qui non so se vedete il movimento tridimensionale del corpo di ricerca di Attack on Titan, che ovviamente viene messo direttamente in game. Qui abbiamo Eren, come avevamo già detto e come era stato già presentato, è la versione ragazzetto, quindi non è né la versione ovviamente quando era più piccolo, ma purtroppo neanche la versione in cui è un po' più adulto, che secondo me è la versione più figa. Tecnicamente dovrebbe esserci poi anche una versione titano, andiamo a vedere. Poi andremo a vedere, anche quando uscirà il passio ci faremo meglio un'idea, ma lui quasi sicuramente sarà proprio la skin segreta, quindi i suoi stili, le sue cose le andremo a scoprire poi più in là. Comunque, continuiamo a guardare, si salta da una parte all'altra, macchine e moto sportive, perché le macchine, come ho detto tra un po', le andremo a vedere nel prossimo trailer, bellissime sembrano le moto. Sempre anche a due posti, le macchine si sono un po' intraviste e qua volevo mettere in pausa. Già si vede un nuovo pump e dopo si andrà a vedere il gameplay, il movimento tridimensionale con la spada, perché anche la spada potremo andare ad utilizzare. Questo qui dietro, ragazzi, sta utilizzando proprio una delle nuove spade, pure questa dopo si andrà a vedere meglio. E questa, che anche il nuovo trailer non si vede ancora, sembra una mitraglietta oppure una pistolina nuova. Quindi, a quanto pare, sono andate anche a cambiare gran parte delle armi, cosa che comunque, per esempio, nel capitolo 3 non abbiamo visto tra una stagione e l'altra. O meglio, le armi cambiavano, ma non così tanto. Invece sembra che per questa nuova stagione andranno a cambiare tantissimo anche le armi stesse. È ancora più interessante, quindi, la situazione. Ok, ma andiamoci a vedere l'ultimo dei trailer che è uscito, ovvero quello che è uscito proprio questa mattina alle 8. Quindi, attenzione, sempre panoramica sulla Mega City. Bellissima, ragazzi. Io spero l'abbiano messa a bella centrale con un sacco di loot, la nuova Pinnacoli. Avete visto il movimento tridimensionale, skin del pass battaglia, questa sorta di laser che ci sposta da una parte all'altra. Ci si può sparare. Guardate un po', questa potrebbe essere quella nuova mitraglietta che abbiamo visto. Potrebbe essere quella? Non lo so, però aveva un mirino abbastanza strano. Qui vedo che è stato rilasciato uno scar, quindi probabilmente lo scar rimarrà. Ma anche qui andremo a vedere. Esplosioni, esplosioni. Macchine sportive, come vi dicevo. Macchine belle, sportive, che esplodono. Perché se in un trailer non ci sono delle macchine che esplodono, non è un bel trailer. Mitraglietta, ragazzi, che sembra una mitraglietta nuova. O comunque un nuovo assalto. E guardate qui la nuova spada. Che io ho paura a dirlo, ma mi sembra anche abbastanza sbroccata. Perché guardate un po' che movimento da lontano riesce a fare. Ti pusha in questo modo. Sembra molto forte. Anche alcune armi che sono state rilasciate da questi giocatori. Mi sembrano armi nuove. Il nuovo assalto. E visto le nuove ambientazioni, veramente fighissime. Pompa. Staremo a vedere come funzionerà. Molto particolare. Megacity, sempre. E c'è Eren con, ovviamente, il saluto del corpo di ricerca appunto di attacco on Titan. Molto, molto, molto caratteristico. Movimento tridimensionale che ce lo stiamo per andare a vedere. Attenzione. Ti ci attacchi. Un po' come il rampino e le altre cose come il potere di Spider-Man. Ma poi ti puoi attaccare anche agli avversari e colpirli con le spade. Ed eccola qui, ragazzi. Io ve l'avevo detto. Aspettate fino alla fine. Molto interessante. Guardate anche qui dietro la mia cama che si vede il lupacchiotto, la sorta di mostro sopra il palazzo. Raga, la città si vede che è abbastanza grande, eh. È da capire, è da capire. Da capire. Questa zona mi sembra stramega piena di roba interessante. Cioè, ci sarà un sacco di lutto a sto punto. Cioè, atterreranno tutti qui. Però qui in fondo vedo Bastione, probabilmente. Quindi la zona innevata è rimasta. Rimasta anche qui giù la zona autunnale, tra virgolette. Quindi da capire se è rimasto Baia, Cittadella, che cosa è successo. Anche se però, raga, la Cittadella non è che la intravedo benissimo. E poi da capire tutte quelle fratture che ogni volta fanno sponare le città e gli edifici, che cosa sono. Cioè, anche quello è importante capirlo. Detto questo, ragazzi, il trailer si conclude sostanzialmente così. Sempre solita immagine promozionale della stagione e del pass battaglia. Non vedo l'ora di sciopparlo insieme a voi in un prossimo video che uscirà nelle prossime ore. Io ribadisco, ragazzi, in questi giorni faremo un sacco di video, soprattutto anche a partire da oggi. Vi aspetto in live su Twitch, trovate il link in descrizione per venirmi a seguire. Sarò tutto il giorno in live, ovviamente. Iscrivetevi al canale, quindi, per non perdervi tutti i prossimi video. Vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Ma soprattutto vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace per supportare il video. E ribadisco, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate da queste prime viste, tra virgolette, della nuova stagione. Per me è tutto, ci ritroviamo dopo appunto il live su Twitch o con i prossimi video che usciranno in giornata. Ciao ragazzuoli!